Nonostante il calo demografico c'è fame di servizi a sostegno dell'infanzia. In quest'ottica l'amministrazione comunale di Lecco ha deciso di potenziare a settembre gli asili nido. Per questa amministrazione i servizi per la prima infanzia sono particolarmente importanti per tante ragioni. Permettono ai minori in età evolutiva di partecipare a processi educativi di socializzazione che sono, sappiamo, fondamentali. Secondo, permettono ai genitori di poter liberarsi dai propri impegni lavorativi e poter sviluppare la propria professionalità e il proprio impiego. Per questo l'amministrazione implementerà il proprio servizio di 15 posti, 15 bambini in più che potranno partecipare, potranno essere iscritti nei nidi comunali. Inoltre, ritorna l'orario dalle 16.30 alle 17.30, che era stato sospeso a causa Covid, dunque i bambini potranno frequentare gli asili nido comunali della città dalle 7.30 del mattino alle 17.30. Questo è un intervento importante in cui crediamo molto perché va a rispondere a quelli che sono i bisogni delle famiglie e dei minori della nostra città. Nota a parte, anche quest'anno le rette che si pagano in città sono fra le più alte in Italia, ma c'è un perché. Allora, la città di Lecco e i cittadini della città di Lecco possono beneficiare attraverso gli asili comunali e gli asili convenzionati del bonus nidi gratis. Questo permette l'abbattimento delle rette. L'unica conto in educazione rispetto a questo tema è il fatto che chi aderisce alla misura nidi gratis deve tenere ferme le soglie di spesa da parte delle famiglie.